Ciao a tutti ragazzi, eccoci sul mio canale e oggi siamo su Rainbow Six, una nuova serie che spero vi piacerà. Iniziamo! Allora ragazzi, eccoci qua. Questa è la prima volta a cui gioco a Rainbow Six. Ho visto alcuni video e mi è piaciuto parecchio, perché a me gli FPS piacciono, partire da Battlefield, COD, anche se a COD non sono tanto brava, e ho voluto provare anche questo qua e lo proviamo insieme per la prima volta. Facciamo multigiocatore, libera ovviamente, e iniziamo. Questo FPS è molto strategico, infatti l'ideale sarebbe giocarlo con altre persone, però io ancora non conosco nessuno che ci gioca e quindi per ora ci gioco da sola. Chiaro che se volete giocare con me basta che me lo dite e giochiamo insieme. Questa partita è già iniziata, aspettiamo quando giocherò io. Squadra arancione attacca, ok. Eccoci qua, allora. Posso usare per ora solo la recluta, quindi usiamo la recluta. Per ora questo abbiamo, quindi per forza così. Poi una volta che aumenterai di livello, ok, sbloccheremo i personaggi, che sono quelli che vedete qua. Ogni giocatore ha la sua mansione, ecco. E adesso non so cosa farò, quindi vediamo un po'. La prima fase è andare a cercare l'obiettivo. Dovete trovare il contenitore di Giorischio. Esatto, quindi siamo tipo dei gadget dove dobbiamo andare a cercare gli obiettivi. Andiamo! Dove sarà mai? Io vado al pieno di sopra. Ottimo lavoro. Il contenitore di Giorischio è localizzato. Ah, è stato localizzato, è in basso però. Torniamo giù allora. È qui. Sì, è qui. Andiamo a localizzare. Anche perché se localizzo qualcuno o qualcosa, faccio un po' di punti. 10 secondi all'inserimento. 5 secondi. Possibile. Raggiungete il contenitore di Giorischio. Non ho trovato nessuno però vabbè. Ok. Eccoli lì. Allora, l'obiettivo è qua. Sento cielo. Aia. Mi hanno già cercato. Raga, faccio proprio chiacchiere questi giochi. Sono stati individuati da chi? Non si sa, però sono stati individuati. Ma dov'era? Ah, guarda. Mi ha preso dal tetto. Infido. Ah, era un video. Yeah, bravi. Riusciremo mai a fare una kill. In questo primo episodio. È figo sto gioco. Veramente figo. Soprattutto quando inizia a piazzare... Vabbè, andiamo a cercare il contenitore. Vabbè, andiamo a cercare il contenitore di Giorischio è stato individuato. È stato individuato? Perfetto, andiamo lì. Vabbè, andiamo a cercare il contenitore di Giorischio. Andiamo, andiamo. Li abbiamo individuati. L'ho visto, è qui. Dai, esci fuori. Ricarica, facciamo il cartone. È rompito. Ok, vediamo qua se c'è qualcuno. Ahia! Ok, dove? Quando e perché? Tornate a occuparvi del contenitore dopo averne neutralizzato la minaccia. Please, help me. Lasciate perdere il contenitore. Ahia. È sempre lui? È la seconda volta. Bravo, madonna. La quadra d'attacco ha eliminato. Lord Dragon è il più forte della nostra squadra, forse. Quello che fa più di tutti. Bravici. Vittoria sofferta. Eh, sì, effettivamente sì. Io non ho fatto niente, quindi pensa a te. Siamo nella squadra vincente senza far nulla. Torniamo al menu principale. Vediamo se si possono sbloccare già, se si può sbloccare già qualche personaggio. Così me lo sblocco. Sì, devo aspettare ad avere almeno 500, raga. Sì, devo aspettare ad avere almeno. Noi, l'accepzione. Allora, la conoscenza. Questa è la squadra. L'accepzione sicure. Abbiamo la squadra. Siamo a 5 secondi. Proteggiate il contenitore di Biorisco a tutti i costi. Buon ultimo. ita. No, 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 no No, 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 no 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 ne avevo visto l'altro peccato mi è abbiam vinto ora ragazzo riuscita a fare due kill con la recluta buono ora attacchiamo bene l'abbiamo trovato grandissimo mio compagno vai io sto dietro di te salgo qua questa non si può rompere ok vediamo se c'è qualcuno no siiii gli ho ucciso un altro oh mio dio tornate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia madonna ho visto il mio compagno esplode abbiamo vinto mamma mia abbiamo vinto che figata con l'arma al liver d'acqua ne warzone era bravo bene con questo episodio chiudiamo qua io spero che vi sia piaciuto questo gioco se così fosse lasciate like commentate condividete e iscrivetevi al canale ciao ciao ciao